bene ragazzi eccoci a un nuovo episodio di triangle strategy allora noi mi sa che c'era un nuovo livello da fare una taverna ok questo è il livello 23 mmm carina sta missione quindi in pratica va bene perché stanno tutti di qua stupido ah questi sono maghi però allora abbiamo solo 10 però allora 23 23 23 allora devo mettere qualcuno che cura che non c'ho allora c'ho questo che cura non c'è posto toglierlo vediamo l'altra col cavallino dove sta abbiamo troppi maghi ok adesso vediamo dove posizionarli allora allora Grazie a tutti Grazie a tutti Ok Diciamo che va bene così Vediamo se inizio prima io Nascondiamoci Ah, mi ha beccato subito Grazie a tutti Ok, io fari questo Guarda Brace yourself Did you see that? Time to take flight My arrow flies through Oh, mi ha beccato a waste of effort they got me my knowledge grows deeper mi stanno facendo fuori tutti i maghi fatti fuori i maghi così ecco perché mi vuoi far fuori i maghi perché sono forti chiunque i costi suOLT l'agrazione For one and all Much obliged It's one step closer to our group Ouch They got me No, 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 no Non curarli Da fuori o fuori i maghi Assolutamente Quindi un po' li sta curando tutti No, no, me lo far cadere Meno male A waste of effort Time to work With the Cultural And No, no They Will Kill 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 Grazie a tutti. 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 ... ... ... ... ... ... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... ...... ...... ...... ...... ... ... ...... ... Purtroppo, è sopravvissuto. Non ti vogliono manco morto, hai visto? E' allora che le storie vecchie ricerche. Il mio obiettivo è stato chiaro. Spero che non ci sia venuto. Ovviamente non. Siamo onorati. Solo spero che puoi dire questo. Un'altra da potenziare. Grazie. Questo è fatto forse per chi non ci aveva il principe. A livello 22 sta. No. 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 giusto. Minolè la spia che ci hanno lasciato che andrà a riferire tutto a quelle del sale. Ceremoni... Certamente ci sono più importanti... La coronazione è importante Per assuagire le pezioni di persone E... Un regno è solo davvero così forte come le persone credono essere E ora ora il mondo crede... È questo davvero il remedio che la nostra situazione calls for? Ora ora, penso che le persone care solo per... Rest assured, sire, House Wolford verà che i vostri soggetti shan't go hungry Ma credo me quando mi dico niente dovrà aspettare la volta di Glenbrook per la sua formazione Per ottenere i nostri soggetti hai bisogno di fare niente ma ascoltare a vostra posizione di... Tu vuoi sentire il mio cammino... In modo di parlare Un regno di regno è prima e prima Sì... Hai bisogno di problemi con la governazione di giorni Abbiamo... Dopo tutto Hai solo venuto Ceremoni Non ci saranno Ceremoni La gente ci dirà Diciamo ci cosa necessitano e tu ascoltarai loro Patriot Come volete King Ok, già non ci sta cacando nessuno C'erano le cose C'erano le cose C'erano i soldi C'erano i soldi Abbiamo ricevuto un prodotto di prodotti di Hyzand Si sembra che molti di questi prodotti hanno usato C'erano i soldi C'erano i soldi C'erano i soldi C'erano i soldi e i soldi si involverano con la distribuzione I soldi C'erano i soldi Ci sono i soldi Chi è? Si può E' una scelta Grazie a tutti E credici che ti lasciamo la miniera? Grazie a tutti 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 Scusa che dovremmo decidere non ho capito Quindi devo scegliere su queste tre azioni Ma scusa non avevamo già diviso Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Facciamo così vediamo cosa possiamo fare E non combinandole dal padre perché sennò questa... Non è infame Grazie a tutti 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 Vediamo 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti